Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Can you hear that dream? Tutte a tema futuristico spaziale con addirittura il nuovo cavaliere Non abbiamo ancora purtroppo la pace in italiano quindi ve la devo tradurre dall'inglese Allora ovviamente nuova stagione, nuovo pass battaglia, sempre 100 livelli ovviamente Ci sono delle cose importantissime nuove e la prima è quello che vi avevo già detto Nella season 10 tu avrai la possibilità di regalare il pass battaglia ad un amico Tanta tanta roba su tutte le piattaforme, su tutte le console, su mobile, su PC Quindi potrete regalarlo Andiamo avanti ragazzi perché abbiamo anche il nuovo veicolo che si chiama Brut Non è altro che un mostro, una specie di mecha chiamiamolo così Con due posti e si potrà utilizzare uno probabilmente guida e l'altro probabilmente spara Abbiamo già visto che si può cecchinare il guidatore perché la testa rimane scoperta In poche parole il veicolo che abbiamo visto nel teaser numero 2 Ma andando avanti ragazzi per quanto riguarda invece il nostro gameplay Armi che sono state messe in magazzino ragazzi Abbiamo innanzitutto fatemele trovare che le ho perse le armi nel magazzino Eccole qua Addio alle girosfere Addio al quad crusher Addio alla pistola a focile Addio alle granate ombra Addio al fucile da cecchino semiautomatico Addio al fucile a pompa tattico Addio alla torretta Addio all'attacco aereo Addio ai redeploy ragazzi I redeploy saranno tolti in realtà solo nel battle royale Perché saranno disponibili e sembrerebbe nelle partite da grandi giocatori Da tanti giocatori Abbiamo le nuove missioni che non si capisce bene ragazzi Perché probabilmente Dice nel battle pass ci saranno delle nuove missioni a tema Completando queste missioni a tema otterrete ovviamente punti esperienza extra Outfit extra E bonus che probabilmente non c'entrano con il pass battaglia Abbiamo ragazzi Il nuovo La nuova modalità arena Ve l'avevo detto Il nuovo campionato che vedrà le world series del 2020 E si parla ragazzi Che la season inizia con l'arena in trio e in solo Hanno tutto resettato Hanno resettato tutti i punti Per chi aveva fatto i punti nell'arena nella season 9 Adesso ci sono delle divisioni molto più ampie Open 1 da 0 a 499 punti Open 2 da 500 a 1000 Open 3 da 1000 a 1500 Open 4 da 1500 a 2000 Open 5 da 2000 Contender 1 da 2000 a 3000 Contender 2 da 3000 a 4000 e 5000 Contender 3 da 4000 e 5000 a 6000 Campione 1 da 6000 a 6000 a 10000 Campione 2 da 10000 a 1400 E campione finale da 14000 a 14000 in avanti Queste ragazzi sarà il nuovo campionato che servirà appunto per qualificarsi poi nel 2020 alle world cup Hanno fatto un sacco di bag fixati ovviamente per il gameplay che non sto a dirvi insomma ragazzi una season 10 davvero Incredibile non vedo l'ora di viverla di nuovo insieme a voi come oramai facciamo dalla season 1 vi ringrazio per avere guardato questo video Ringrazio i ragazzi in chat per le donation non sto andando via Noi ci vediamo in live ciao 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 Noi ci vediamo in live ciao